Per l'ultima giornata di regular season il ghiaccio del palaonda ospita la sfida tra Bolzano e Fassa. I padroni di casa che si presentano all'ingaggio iniziale al gran completo hanno già la matematica certezza del secondo posto in ottica master round. I ladini dal canto loro sono ancora in lizza per il settimo posto con il Renon ma devono rinunciare a Doyle, Sullivan, Schnabel, Locatin, Snetzinger e Piffer. Dopo una prima fase di studio i padroni di casa prendono immediatamente in mano le redini del gioco passando già in vantaggio al 4 e 51. Conclusione di Marco Insam da fuori disco che dalla balausta favorisce Valker il quale insacca. A spezzare l'equilibrio ci pensa allora Christian Valker al secondo gol nel corso di questo campionato. Prosegue la pressione bianco-rossa anche dopo la realizzazione. Zisser nel tentativo di servire Insam si trova favorito per la conclusione che però non sorprende Carlo Di Rienzo. I Foxes tornano a premere nella seconda metà del tempo. Nella circostanza occasione sulla stecca di Knackstedt che però è lento e poco incisivo sul secondo tentativo. Nel finale poi arriva pure il raddoppio dei padroni di casa. Conclusione dalla distanza da parte di Josh Meyers e deviazione vincente di Gigliatti. Il tocco del numero 11 mette fuori giri il portiere avversario. Il gol si concretizza al 17 e 38 e si tratta del diciassettesimo in stagione da parte di Stefano Gigliatti. Al termine della prima frazione il punteggio è allora di 2 a 0. Nemmeno in avvio di secondo tempo la compagine ospite riesce ad incidere. In questa occasione errore di Turon che favorisce Berner il quale non riesce però a battere la guardia di Di Rienzo. Poco dopo con l'uomo in più i Foxes calano il Tris. Disco scaricato da Insam per la corrente Zisser che non perdona con un tiro preciso. Al 28 e 53 i biancorossi allungano così ulteriormente. Anche per Stefan Zisser si tratta del secondo sigillo nel corso di questo campionato. Altro power play e altro gol da parte di Egger e compagni. Rodgers scambia con Ederson che pesca McHatchen il quale non ha problemi ad aggirare il portiere e a mettere in fondo al sacco. Fassa allo spando e Bolzano a quota 4. Al 31 e 21 si concretizza l'ottavo gol in campionato per Mark McHatchen. Subito dopo i biancorossi potrebbero salire a quota 5. Egger cede a Knacksted che mette in apprezzione la retroguardia avversaria con Sharp che non riesce poi ad incidere da sottomisura. I trentini si fanno finalmente notare poco più tardi nonostante l'uomo in meno. Incursione centrale da parte di Capitano Iori stoppato alla fine dall'intervento risolutore di Matt Zaba. In finali di tempo la formazione ospite riesce ad accorciare le distanze. Disco gestito da Kelodi che cede all'indietro per Kvatal il quale mette dentro. Al 38 e 25 si registra dunque il primo acuto da parte dei ragazzi di Fritscher che vanno a referto con l'ex cortina Marek Kvatal al primo gol con la maglia del Fassa. Al quarantesimo punteggio di 4 a 1. Il terzo tempo inizia con Günther Hell a difesa dalla porta di casa al posto di Matt Zaba. Nelle prime battute David Thuron finisce in panca dei puniti e di Foxes ne approfittano subito. Scambio sull'asse Sharp Gigliatti che libera la battuta Meyers il quale fa centro di prima intenzione. Anche il terzino statunitense partecipa alla festa del gol in casa Bolzano bucando Di Rienzo al 41 e 57 con il suo undicesimo centro stagionale. Successivamente occasione sulle stecche della seconda linea di casa. McHatchen apre per Dorigatti che non riesce a finalizzare poi ci prova anche Edouardson trovando sulla sua strada un nuovo intervento del portiere avversario. Il medesimo blocco ma con Bernard al posto di Dorigatti porta alla sesta rete. Dopo una prima incursione di McHatchen senza fortuna Bernard allarga per Edouardson che non ha pietà dei suoi vecchi colori ed infila la sesta rete del Bolzano. Edouardson va così in doppia cifra. Decimo gol per lui al 50 e 30. In finale di partita c'è comunque ancora un po' di gloria per la formazione fasana. Che Lodi cede in becca a Kel spiazzando gli avversari e permettendo al compagno di insaccare indisturbato. Al 59.05 si registra l'ultimo sussulto della sfida firmato dai Ladini che rendono la pillola forse meno amara con il decimo centro stagionale di Trevor Kell. Finisce allora 6 a 2 in favore del Bolzano che chiude la regular season con un successo utile a portare i bianco-rossi nel prossimo master round ad una sola lunghezza dal Valpusteria. Per il Fassa sconfitta che significa ottavo posto in vista della seconda fase di stagione.